allora non so se l'avevo già fatto un video di questo tipo oppure no non mi ricordo forse l'avevo fatta e poi dopo l'ho cancellato però ecco nel dubbio lo rifaccio allora oppure lo faccio nel caso in cui non avessi dovuto averlo mai fatto allora perché il vegetarianismo salverà il mondo perché se l'uomo non dovesse più mangiare soprattutto gli animali erbivori questi si moltiplicherebbero e lasciati in natura difenderebbero anche l'uomo da eventuali attacchi di animali carnivori perché se pensate all'elefante no se invece che essercene così pochi a causa del braconaggio ce ne fossero molti di più al momento in cui noi dei leoni dovessero decidere di mettere in atto un attacco gli elefanti li caccierebbero via e quindi saremmo tutti protetti e difesi da questi grossi animali quindi il vegetarianismo salverà il mondo grazie a tutti Grazie.